Oggi i tifosi del Trapani, la gente di Trapani deve essere orgogliosa e fiera e ben contenta di avere una proprietà forte e importante come quella presieduta dal Presidente Antonini. C'è grande entusiasmo, c'è sicuramente un'idea chiara di quello che si vuole fare e quindi con la solidità del Presidente, le sue idee e tutto quello che sta costruendo, il futuro del Trapani è sicuramente un futuro rosso e importante. Già da ieri è arrivato il nuovo direttore sportivo, abbiamo iniziato a scrivere giù su carta qualche nome, inizieremo a lavorare già da oggi H24 per creare in sintonia una rosa che sicuramente possa portare il Trapani alla vittoria di questo campionato. Perché è inutile nasconderci, l'obiettivo della società è questo, il Presidente ci predica di essere umili ma vincenti e quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di costruire una squadra che possa fare da studio protagonista in questo campionato. E' il minimo che possiamo fare per quello che il Presidente ci sta mettendo a disposizione come sia budget a livello economico e sia come struttura societaria e logistica. Quindi non resta altro che cercare di lavorare subito per cercare di mettere la gente giusta, al posto giusto e portare il Trapani nelle categorie che contano.